Quando parliamo di danno varico nelle pazienti con l'endometriosi parliamo di una patologia piuttosto frequente, l'endometriosi è una malattia che interessa il 10-15% delle donne in età fertile, quindi sicuramente è un problema molto importante. L'endometrioma è la manifestazione più frequente dell'endometriosi in queste donne, è presente circa nel 17-44% dei casi, quindi è una cosa molto importante. Il danno che esercita l'endometrioma sullo vaio è un danno duplice, da un lato è un danno indiretto legato alla chirurgia che si fa per asportare l'endometrioma e dall'altro è un danno diretto legato alla presenza stessa dell'endometrioma. Ci sono voluti anni per definire quella che è la chirurgia che attualmente rappresenta lo standard per la terapia dell'endometrioma che è quello dell'asportazione della cisti ovarica proprio in sé e questo si è visto però nel tempo portare ad un danno proprio dell'ovaio probabilmente legato alla fertilità, legato al fatto che si asporta del tessuto intorno alla cisti ovarica che non dovrebbe essere asportato. Quindi sicuramente un ruolo della chirurgia che può essere un ruolo definito pericoloso dal punto di vista proprio della preservazione della fertilità ma dall'altro lato esiste anche un danno diretto esercitato dall'endometrioma perché sembra che queste cisti che sono gli endometriomi contengano delle sostanze che possano rendere tossico il tessuto circostante e questa è una cosa assolutamente importante perché da un lato è vero che la chirurgia abbiamo detto che può essere pericolosa ma dall'altro anche lasciare la cisti può essere pericolosa per la fertilità della paziente. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la chirurgia deve essere fatta solo con indicazioni ben precise che di solito sono 3-4 cm di dimensioni pazienti sintomatiche e lasciare la cisti ovarica potrebbe invece portare ad un danno permanente. Ovviamente la capacità chirurgica è importante, si è visto che minore è la capacità del chirurgo, maggiore è il rischio che si asporti più tessuto e quindi maggiore sarà il rischio di una riduzione del potenziale fertile. Pertanto non demonizziamo la chirurgia ma non pensiamo che lasciare la cisti sia la soluzione.